buongiorno a tutti ragazzi e ragazze il libro che vi voglio presentare fuori di galera è scritto a quattro mani da me che sono sofia gallo e da pino pace ed edito da marcusi marcus la storia di fuori di galera la storia di hilde una ragazza che compie 15 anni che ha vissuto una vita con la nonna e con la mamma una vita senza troppi vizi senza troppi agi senza troppe regali senza troppe vacanze però una vita fatta con una assenza l'assenza quella del padre come mai questo padre non c'è il padre è detenuto da quando lei aveva quattro anni e ha passato quindi tutta la sua più di dieci anni in prigione per un crimine piuttosto consistente accusato di omicidio durante una rapina questo padre esce di carcere proprio il giorno del compleanno di hilde ecco che allora hilde si deve misurare con questa assenza che lei ha vissuto e con una presenza che diventa fortissima perché il padre pur di stare con lei addirittura in qualche modo la sequestra e fa con lei un viaggio di pochi giorni ecco durante questo viaggio c'è tutto una vita da ricostruire un futuro da riscrivere degli interrogativi a cui dare delle risposte sia da parte di hilde sia da parte del padre l'idea di fuori di galleria è venuta a me avevo questa idea che come mi capita relativamente spesso l'ho scritta io faccio una cosa che molti scrittori non fanno secondo me fanno bene nel senso che comincio a scrivere la storia e non so esattamente da dove andrà a finire questa storia qua e così ho fatto anche in questo caso e a un certo punto mi sono reso conto che non mi veniva in mente un finale parlando con sofia che è un'amica ci vediamo relativamente spesso le ho accennata lei è piaciuta questa cosa e quindi ho detto va beh senti io te la giro e e poi così se ti viene in mente come finire poi alla fine ci è venuto in mente insieme